buongiorno a tutti 9 gennaio 2021 stamattina fago un video voglio fare un video perché sono molto amareggiato su quello che è successo in provincia di bolzano allora faccio due parole sarà un video molto breve insomma ieri il comandante degli sudsen del sudtirol jürgen wirt anderland ha dato le dimissioni allora sono delle dimissioni guardando da trento e si capisce jürgen un giovane landes comandante presidente di tutta l'associazione degli sudsen del sudtirol ha fatto privatamente una canzone musica rap con ritmo rap la musica moderna insomma una canzone moderna ed è stato immediatamente guardate che in un giorno ha fatto 50.000 visualizzazioni quelle quelle video di quella canzone girate in una cantina con delle candele ma li sono saltati addosso immediatamente perché nel testo della canzone guardate ha fatto due passaggi è una canzone ha fatto due passaggi che rimarcano in pratica quello che sono gli ideali degli sudsen gli ideali dei tirolesi cioè la difesa della famiglia la famiglia tradizionale perché fino a prova contraria la famiglia tradizionale è quella che dà il futuro a questa società perché la famiglia tradizionale normalmente fa dei figli ma senza demonizzare chi non ha intenzione di fare la famiglia ha rimarcato in questa canzone rap degli ideali che fanno parte anche degli statuti delle compagnie degli sudsen i sudsen sono i cisseri sono quelli che sono nati nella storia per difendere la comunità per difendere la comunità per difendere la comunità formata da famiglie e in questa canzone rap parla anche di un credo cristiano di una devozione alla alla religione che fa parte proprio anche degli statuti che fa parte anche degli ideali insomma è una canzone rap molto moderna e al quale sinceramente io apprezzo questa questa volontà questa idea di portare avanti degli ideali degli ideali a difesa della nostra società ma senza arroccarsi su quello che era la parte vecchia insomma bisogna guardare avanti se vogliamo coinvolgere i giovani bisogna andare avanti allora io sinceramente da questa canzone ho apprezzato sia gli ideali ha toccato il discorso che tanti si sono dimenticati di andre a soffere guardano greta cos'è successo a bolzano a bolzano i verdi si sono ribellati i verdi è una questione politica queste dimensioni queste dimissioni è una questione politica siccome i verdi sono al governo provinciale alleati della fosparta e la fosparta è subito aderito a questo allora io mi chiedo e spero che gli schutzian abbiano capito che la politica ci vuole indebolire ancora vuole dividerci vuole dividerci e indebolire cioè questa è l'operazione vera quella di far litigare tra di loro gli schutzian che hanno magari un'idea politica diversa dall'altro cioè qua se questi questi schizzeri sono così ignoranti di cadere in questo tranello è grave perché è una divisione voluta un indebolimento cos'è successo con una persona fuori dal grege che non è una pecora che ha portato avanti delle battaglie io parlo di jürgen e isolarlo assolutamente no in questo momento gli schutzian dovrebbero unirsi ancora di più a difenderlo perché è una canzone rap moderna ma ci sono sacque quella parte un po maliziosa ma non possiamo avere un comandante che ha i tatuaggi sulle braccia ma cosa ma che importanza è la società va avanti e bisogna sperare di avere sempre più persone come jürgen che sono fuori dal grege perché coinvolgiamo i giovani perché altrimenti se io non riesco a coinvolgere i giovani in queste associazioni io ho perso perché io vecchio ho perso devo avere i giovani che vanno avanti e la società è cambiata e bisogna capire anche altri metodi usare altri metodi non ha fatto niente di male una canzone e per una canzone come sempre la politica si intromette per dividere le associazioni guai se le associazioni non hanno i loro addetti di partito che le gestiscono capite non devono esistere persone fuori dal grege e questo a me dispiace molto e sono molto vicino all'andes comandante jürgen che ha dato le dimissioni io mi auguro che invece le compagnie si uniscano ancora di più a difenderlo a difenderlo non dare la possibilità a chi vuole dividerci mi raccomando perché questa è la parte peggiore io spero che gli susson siano intelligenti ciao a tutti paolo primonda 30 ciao a tutti Grazie.